Sulla costiera cilentana è boom di presenze ma a mancare è stata l'acqua. Il primo cittadino di San Mauro chiama raccolta a tutti i sindaci per dire basta al CONSAC. E ci si indigna per le alghe ma si ignora che la Posidonia è una ricchezza che non può essere tolta dalle spiagge. Lunga intervista al sindaco Pisani, Pollica è un modello di sviluppo turistico da imitare. Il castello di Camerota Valcomune è arrivata alla sentenza del TAR. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. La condotta faraone è collassata. Almeno questo sembra nonostante che i numerosi avvisi di CONSAC, gestioni idriche, SPA, ente e gestore del servizio, dicano che gran parte dei rubinetti siano rimasti a secco per aumento dei consumi. In effetti nel Cilento ci sono stati moltissimi turisti ed avventori ma paradossalmente l'interruzione idrica proprio in quei comuni ad alta concentrazione turistica è stata necessaria per guasti mentre in alcuni dei comuni collinari per improvviso incremento dei consumi idropotabili. Da venerdì a domenica da Centola Parinuro a Castellabate è stato un vero, è il caso di dire, stillicidio ma di acqua. Molti cittadini hanno protestato pure sulla pagina Facebook dell'ente con messaggi al vetriolo dicendosi stanchi di una situazione che si protrae da anni e che peggiora sempre più. Mai, scrivono in molti, erano stati lasciati a secco tanti comuni nel mese di giugno ancora prima dell'inaugurazione della stagione balneare vera e propria e che adesso stenta a decollare a causa del coronavirus. Le interruzioni idriche, secondo molti, non potrebbero addebitarsi all'aumento dei consumi come nel caso di San Mauro Cilento, un paesino semicollinare dove il sindaco, in un tour organizzato proprio per rispondere all'ente ha fotografato decine e decine di abitazioni chiuse e abbandonate aggiungendo che semmai nel suo comune si sono registrati numeri opposti 0 nuove presenze. Stessa cosa nel comune di Pollica dove venerdì 19 il servizio è stato sospeso nel centro abitato del capoluogo a Celso, nelle campagne limitrofe e nella zona serre di Acciaroli quindi luoghi dove si contano 0 turisti. Diversa la situazione per i comuni costieri come Centola, Palinuro, Pisciotta, Casalvelino e Castellabate. Qui è stata la rottura degli impianti a lasciare le abitazioni e i locali commerciali a secco, mentre procede la posa del tubo di potabilizzazione che dovrebbe portare l'acqua da Casalvelino verso altri paesi costieri in primis a Pollica, poi a San Mauro Cilento che invece di acqua potabilizzata vuole acqua potabile in tubi nuovi possibilmente così da evitare i guasti continui. E' furioso il sindaco di San Mauro, Giuseppe Cilento, che da anni si oppore alla politica intrapresa da CONSAC gestioni idriche. Si oppone da tempo pure al processo di potabilizzazione dell'acqua, acqua proveniente dall'invaso artificiale della diga lento, trattata di immessa ora anche in nuove tubazioni, pronte a sopperire una mancanza idrica che non ci sarebbe, secondo il sindaco, Il Cilento è ricchissimo di acqua, fonti e sorgenti, ciò che mancano sono i nuovi tubi che si sfarinano al solo passaggio dell'acqua disperdendo un bene preziosissimo. Sulla denuncia di molti cittadini che in questo weekend sono rimasti senza acqua già nel mese di giugno è intervenuto il sindaco Cilento chiamando a raccolta tutti i sindaci della costa. Hanno fatto due riparazioni solo sotto i miei occhi sulla variante di Acciaroli, cioè quello è un sistema che è giunto al collasso. Ancora quel tubo non viaggia a pressione, ma quando ci saranno veramente le persone del mese di agosto, quello scoppierà. Cioè siamo nelle mani di persone completamente irresponsabili, irresponsabili, ma non solo loro. Io penso che altrettanto irresponsabile è il sindaco di Palinur, Carmele Stanziola, il sindaco di Pisciotta, Ettore Rigori, il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, Silvia Pisapia e lo stesso Stefano Pisani. Deve dire che cosa vuole dalla vita, perché alla fine l'unico comune che ha detto no all'acqua potabilizzata con un consiglio comunale rimane San Mauro Cilento. E l'unico sindaco che si è apposta a questa gestione politica del bilancio è il comune di San Mauro Cilento. Punto. Allora io voglio capire, poiché non amo la solitudine, perché non devo diventare un eroe e voglio risolvere qualche problema. Questi sindaci che ho nominato, nella loro totale irresponsabilità, la vogliono dire una parola o no? Questo è il punto. Lo dico con il sangue agli occhi nei loro confronti, che sono degli irresponsabili, perché hanno lasciato nelle mani di altri irresponsabili un consiglio di amministrazione di quattro soldi. L'ingegnere Parilli va licenziato. Va licenziato. No, perché oggi le reti sono al collasso. Questo è il punto. Che cosa è successo di nuovo da quando c'è lui, che c'è stato per più di vent'anni, sulle reti del Cosa? Nulla. Ma è possibile mai che, in poche parole, i sindaci si mettono d'accordo per abbassare la qualità di questo territorio. Per cui, se noi vogliamo bere, dobbiamo bere acqua minerale. E' stato un fine settimana molto simile a quelli agostani, da venerdì fino alla domenica sera, ovunque si è registrata una grande presenza di turisti, ma anche di giovani e giovanissimi. Cremita la piazza di Vallo della Lucania ha moltissime presenze nei localini e nei bar della piazza. Ma sembra che, al di là dell'uso della mascherina, che da oggi, 22 giugno, non è più obbligatoria all'aperto, il problema sia stato un altro, la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a giovanissimi, così come ha denunciato l'ex consigliere comunale Pietro Miraldi. Io credo che ci vuole un controllo, sempre, perché se poi questo significa non rispettare alcune regole, poi non è bello. Io l'altra sera ho assistito in un bar, ma non è la prima volta e succede spesso, non succede solo a Vallo. Ho assistito che vengono somministrati dei superalcolici a minorenni, evitato dalla legge, è anche un fatto etico, e quindi ho invitato, infatti ho scritto un messaggio sia al comandante dei vigili urbani Musto e sia al maresciallo Sergi, ad essere un poco più rigorosi, perché secondo me è un controllo di civoli, perché poi non vorrei che dall'alcol poi si passa a sostanze e superfacenti, e per i nostri giovani non è bello. Quindi invito ancora una volta ai giovani a rispettare i genitori a fare un controllo sui propri figli, soprattutto minorenni, e alle forze dell'ordine a fare questi controlli, perché non è bello poi, ecco, che un paese, sì, c'è movida, però se poi deve essere una movida che è anche particolare, sotto certi punti di vista, non è bello. Il mio non vuole essere assolutamente un allarmismo, però è come cittadino vallese, è come genitore anche di un bambino minorenne, non vorrei che poi queste cose diventano abitudini. Solite polemiche ogni anno sulla presenza delle alghe sui litorali, polemiche che alimentano numerosi bagnanti e che, infastiditi dalla presenza viscida della pianta e in generale dalla sua presenza, pure quando è essiccata, gridano all'indecenza. E invece è bene sapere che l'alga in questione non è uno scarto, né come molti la definiscono una schifezza. La posidonia, l'alga che vive nei nostri mari e che in questi giorni la si ritrova sui litorali, è un preziosissimo indicatore biologico, è importantissima per l'ecosistema marino ed è pure una risorsa per contrastare l'erosione costiera. Non tutti sanno, ed infatti se ne scandalizzano, che la posidonia, per le ragioni appena elencate, non è una nemica da distruggere perché invade il litorale, che rientra in un normale ciclo biologico, ma per legge va protetta e dunque sarebbe necessario capirne non solo l'importanza che ha nei nostri mari, pluripremiati dalla bandiera blu, ma anche imparare a conviverci perché la legge parla chiaro. La posidonia deve rimanere lì dove si trova. Solo in casi indifferibili può essere spostata ex situ, cioè in un luogo diverso da dove è stata raccolta. Per chi volesse saperne di più, basta consultare le linee operative per la gestione sostenibile per il recupero dei residui spiaggiati di posidonia, che rientra in un progetto life, reggiatto già nel 2009. Le alghe non devono essere spostate dal luogo in cui si trovano. Dopo il termine delle mareggiate che solitamente si conclude verso la fine del mese di maggio, la posidonia va sparsa mai meccanicamente sul litorale, meglio ancora in un retrospiaggia, dove dovrà essere essiccata, liberata manualmente dai rifiuti plastici o di altro genere, per poi essere accumulata. E dopo? Dopo va rimessa nuovamente sul litorale, perché è un valido agente a contrasto dell'erosione costiera. L'essiccazione è necessaria per evitare il processo di potrefazione che determina biogas. E infatti la posidonia non può essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma come speciale, dunque seguendo apposite e rigorose procedure e meccanismi ad hoc. Lo smaltimento della posidonia ex situ è previsto solo in casi rari, che non sono quelli legati alla balneazione, dunque prima di gridare allo scandalo per la presenza molesta dell'alga. Quelli che si sono indignati sul litorale di Ascea, Casalvelino e Dacciololi dovrebbero sapere che è proprio la posidonia a rendere tanto bello e puro il mare che abbiamo. Non stupisce che la posidonia costituisca un problema per i più se il consigliere d'opposizione Antonio Pesca, Movimento 5 Stelle, la definisca tale e dimenticando che una normativa c'è, addirittura si dice impegnato nella gestione da tempo con Movimento 5 Stelle nel trovare una soluzione che già esiste. Credo che sulle spiagge noi come Movimento stiamo portando avanti una battaglia che è quella relativa a come risolvere il problema della posidonia. Noi abbiamo un progetto molto serio e valido, cioè che è quello di cominciare a separare la posidonia e le altre cose negative che ci sono dalla spiaggia. Questo perché? Perché abbiamo due grandi risultati, che è quello di ottenere una sabbia pulita da poter integrare sulla spiaggia stessa, quindi sulla battigia, e quello di avere anche le alghe pulite da poter eventualmente ritorizzare anche nel mare, perché una volta che le alghe sono pulite si possono fare. Questa è la nostra battaglia. La mia è un'opposizione tenace, dura, sulle problematiche, ma veramente dura. Boom di presenze nel comune di Pollica, in particolare nelle frazioni marine di Acciaroli e Pioppi. Niente di inaspettato per il sindaco Stefano Pisani. Da anni il suo comune registra un numero di presenze sempre più alto perché crescono i servizi, l'attenzione per la sostenibilità ambientale, mentre si affina a una strategia turistica di rilancio che passa dalla balnearità all'erogastronomia senza tralasciare gli eventi culturali. A partire dei prossimi giorni, poi, pare si vada per il tutto esaurito. Le prenotazioni ci fanno molto ben sperare rispetto alle prenotazioni che non sono tardate a venire, così come c'è una grandissima richiesta per le imbarcazioni da di porto nel porto di Acciaroli, dove la domanda è veramente schizzata alle stelle. quest'anno, devo dire che i riconoscimenti non sono mai scontati e soprattutto non sono nemmeno così naturali, sono frutto di grande lavori, di grande fatica, soprattutto quando non hai a disposizione tante risorse di bilancio da impegnare per i servizi e quindi si fondano anche sull'aiuto e sul supporto degli operatori turistici. Guardate, è molto singolare e simpatico raccontarvi che mentre il parco scrive alla forestale, al corpo forestale dello Stato, dei carabinieri forestali, di andare a monitorare e controllare la duna sulla spiaggia affinché gli stabilimenti balneari non occupino la duna, ad Acciaroli gli operatori lo fanno naturalmente, per esempio stamattina sono stato a trovare un operatore del balneare e mi ha fatto vedere, mi hanno costretto a mettere il nastro rosso e bianco, ma noi già lo rispettiamo anche senza nastro, questo è un segno di grande civiltà, di grande attenzione, così come ci sono gli operatori che contribuiscono all'allestimento dell'arredo urbano del Comune di Pollica regalandoci le ceneriere perché sono particolarmente attenti a non gettare le cicche di sigaretta in strada, insomma, ci pare un buon momento per tutti. Infatti, lei è stato il primo sindaco ad avere un comune plastic free e è partita proprio da Pollica questa esigenza, ma stesso degli stessi esercenti di togliere da mezzo tutto ciò che poteva inquinare e quindi quando il parco ha lanciato ecco lo slogan plastic free a Pollica era già iniziato da qualche tempo ed è partito sempre da questa sinergia con gli operatori turistici che non hanno avuto difficoltà insomma a contribuire all'ecosostenibilità a rendere sempre più verde il Comune di Pollica semplicemente sostituendo la tazzina del caffè in monouso diciamo con qualcosa che poi voleva essere riutilizzata il lavabile guarda, noi cerchiamo sempre di lavorare in sinergia con gli operatori diciamo il Covid ci ha fatto fare qualche passo indietro rispetto al plastic free perché purtroppo ci ha come dire costretto ad un utilizzo ancora maggiore del monouso rispetto noi più che la scelta di sostituire il monouso con un monouso compostabile avevamo scelto proprio di utilizzare i bicchieri di vetro insomma eravamo ritornati veramente al tradizionale adesso si sta ricominciando a ridurre l'uso della plastica gli operatori sono abbastanza attenti ma diciamo se non c'è un lavoro di sinergia non si va da nessuna parte poi noi alcune volte addirittura tentiamo di anticipare un po' troppo noi avevamo cominciato nel 2011 la battaglia al plastic free poi il paradosso invece è che quest'anno allestiamo le nostre spiagge e lo facciamo con dei tubi per distanziare le postazioni dei tubi di plastica reciclata che ci consente di utilizzare la plastica che recuperiamo dalle spiagge pensate i nostri pescatori continuano a portare a terra la plastica immaginate che la plastica che recuperiamo da mare ci serve invece per rispettare le distanze covid e il polieco insieme ad un'azienda del messinese ci ha regalato 1500 tubi per l'installazione delle postazioni del covid anti-covid 19 sulle nostre spiagge anche per questo siamo come dire un po' più in ritardo rispetto all'allestimento che avevamo previsto ma abbiamo voluto soprattutto chiedere una collaborazione dei cittadini e dei turisti a mantenere le distanze quindi non ci ha preoccupato più di tanto primo giorno in assoluto di chiusura al traffico del lungomare della città sabato e domenica quel che accade da decenni in altre località costiere è accaduto straordinariamente ad Agropoli e come ci si aspettava l'interdizione al traffico veicolare considerato il fatto che sul lungomare insistono molti locali serali non poteva essere che ben accolta non solo dai commercianti ma soprattutto dai turisti residenti ed avventuri l'unico neo pare sia il traffico che incolferebbe l'uscita Agropoli Sud e non solo come pure la mancanza di opportuni parcheggi ma il sindaco è fiducioso di livellare i problemi innanzitutto in una prima valutazione è ancora mezzanotte quindi stiamo cercando di raccogliere un po' le idee però la prima cosa che posso dire è che probabilmente l'orario di chiusura alle 8 è troppo presto perché tra le 8 e le 9 ancora c'è un forte traffico in uscita dalle spiagge e quindi probabilmente dobbiamo spostare la chiusura alle 9 sicuramente la chiusura alle 9 ci aiuterà molto perché la prima ora è stata un poco critica poi dalle verifiche che abbiamo fatto insomma fino alle 10 c'è stato un poco di criticità all'altezza del sottopassaggio dopo le 10 invece si è regolarizzato il traffico non c'è stato più problema quello che naturalmente è mancato stasera probabilmente perché c'è stata forse preoccupazione da parte di taluni è la poca presenza insomma sul lungomare nel senso che c'era gente ma non quella che si aspettava e mi raccontano invece io non sono stato ma i vigili mi hanno fatto monitoraggio come io della città e mi hanno raccontato che invece la piazza Vittorio Verde insomma era stracolma di gente bene e quindi probabilmente la serata ha un po' spaventato insomma gli avventuri quindi devono anche i cittadini capire insomma che tutto funziona e funzionerà bene quindi per il momento un giudizio diciamo sospeso a ulteriori verifiche non c'è stato il disastro annunciato come qualcuno immaginava insomma si parlava insomma di file chilometri che io non mi pare di aver visto e neanche di improvvisi oscuri da parte delle persone via risorgimento al contrario di quello che ha detto qualcuno lo possiamo vedere alle nostre spalle pieno di automobili quindi il fatto che il lungomare è stato chiuso non ha danneggiato il traffico via risorgimento il castello Marchesale di Marina di Camerota è di proprietà del comune nel mese di giugno più strano che la storia contemporanea abbia mai scritto improvvisa giunge la notizia da molto tempo attesa nell'intero comune di Camerota il tar della campagna sezione di Salerno si è pronunciato nel merito ed ha stabilito con parole chiare e inequivocabili che il palazzo Marchesale per tutti il castello è di Marina di Camerota e della sua grande comunità le ragioni che hanno indotto il comune di Camerota ad esercitare il diritto di prelazione affermato dalla casa comunale sono esposte nella proposta motivata di prelazione inviata dal comune all'amministrazione dei beni culturali sulla cui base quest'ultima ha rinunciato alla prelazione a sé spettante è in questo passaggio che è racchiuso il senso più profondo della sentenza del tar di Salerno quella che assegna in maniera definitiva il simbolo di Camerota all'ente rappresentato in giudizio dall'avvocato Marco Sansone che validamente aveva esercitato l'anno fa il diritto di prelazione dopo la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato dal febbraio scorso che aveva ribaltato la prima ordinanza dell'autunno dunque il Tribunale Amministrativo mette la parola fine all'intera vicenda a meno che la società ricorrente decida di ricorrere in appello è una soddisfazione immensa dichiara il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta eravamo certi che tutto alla fine sarebbe andato nel migliore dei modi questi sono momenti in cui scorrono davanti agli occhi i ricordi di tutto quanto si è fatto e la mente va già su quello che da adesso e poi bisognerà fare sull'esito al lieto fine della vicenda si è spessa commossa anche l'assessore alla cultura Teresa Esposito non vi nascondo l'emozione gli occhi lucidi e il cuore che batte forte ha dichiarato l'assessore il simbolo di Marina di Camerota uno dei tanti gioielli nel nostro comune torna tra le mari della gente è una soddisfazione immensa trovo difficoltà a pronunciare le parole giuste perché sono davvero felicissima per la mia gente ora subito al lavoro per trasformarlo nella gemma che merita di essere il comitato civico terra nostra avrà una propria sede a San Giovanni a Piro a tre mesi dal voto salvo ulteriori slittamenti il comitato terra nostra è infatti aperto a tutti i cittadini interessati alle linee politiche che lo stesso stabilirà nelle prossime settimane presso la sede elettorale nel capoluogo di San Giovanni a Piro un cantiere politico per la gente uno spazio per l'accogliere le istanze dei cittadini e sviluppare insieme le proposte che entreranno a far parte del programma elettorale dobbiamo capire oggi dove vogliamo essere fra vent'anni è dichiarato Alberico Sorrentino portavoce del comitato abbiamo scelto questa sede a pochi passi dal municipio per esercitare un controllo anche fisico sull'attuale amministrazione che in tempi normali avrebbe già terminato il suo mandato elettorale un controllo necessario ha poi incalzato Sorrentino per chi ha fatto della poca trasparenza e del clienterismo un faro della propria azione politica la sede elettorale sarà dunque aperta per adesso due giorni a settimana il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 20 quest'ultima però non avrà esclusivamente la funzione di centro politico del comitato ma servirà anche per risolvere eventuali disservizi che riguarderanno tutti gli abitanti del comune proveremo a dare anche dei servizi al cittadino avvalendoci della competenza dei membri del comitato a continuato Sorrentino saremo uno sportello attivo del consumatore per problematiche inerenti eventuali di servizi e per le cartelle esattoriali lavoro e trasparenza saranno i binari lungo i quali un gruppo giovane riporta la democrazia a San Giovanni a Piro costruire ha poi concluso il portavoce Sorrentino partendo dal basso per riempire di sostanza il concetto di equità sociale Grazie a tutti